Grazie a tutti. Mi ascolto? Te la ridiamo, però devi ascoltarla, devi ascoltarla, lascia lui, che è l'ogente di lui, lascia lui, siamo tutti di sui, guarda tu stai, mi ascolto, tu lascia a terra e andiamo a prendere la tua stanza. Esatto. Mastiano, guarda me, lascia stare, guarda me, Cristiano, lascia stare, lascia a coltello, lascia a coltello, non ce l'ha. Mi tolgo il cinturone? No, no, no. Tolgo via? Tu, 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 tu. Sì, io ti voglio aiutare, me lo tolgo, guarda, lo metto a terra? Vuoi darlo a me? A terra? Sì, sì. Non ti preoccupare, Cristiano. Non ti preoccupare, Cristiano. Non ti preoccupare, 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 non ti preoccupare. Non ti preoccupare, 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 non ti preoccupare.